Noi stiamo camminando, stiamo andando verso una meta. Abbiamo nel nostro cuore e nella nostra mente la fede, la speranza e la carità. E stiamo camminando verso una meta. Ma questo cammino non lo dobbiamo fare solo per noi stessi, ma lo dobbiamo fare per essere testimoni. Dobbiamo sapere entrarle, camminare per strada e farci dire com'è bello seguire il Signore, com'è bello essere Suoi discepoli. Questo è il compito dei cristiani, essere testimoni. Meno Dio, Meno Dio perdono. Sì che tenia che fa, i giorni della Santa Croce hai detto mille volte, Gesù. Gesù, 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 Gesù. Vatten a rete, Satana. Sì che tenia che fa, i giorni della Santa Croce hai detto mille volte, Gesù. Gesù, 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 Gesù. La croce è con la Vergine e Maria, San Michele in compagnia, e per l'agenzia noi si fa Grazie a tutti. Grazie a tutti.